Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi voglio parlare di tutti i prodotti solari Un po' tutti i prodotti per l'estate, pre e posto sole Che utilizzo maggiormente E poiché li abbiamo riforniti su Carlita Shop Vi faccio questo video anche perché Proprio oggi che lo state vedendo ci sono i saldi Solo oggi che state vedendo questo video Ci sono grandissimi saldi sul mio shop online Quindi trovate tutti questi prodotti a prezzi scontati E tanti altri Vi metto nel box info tutti i link dei prodotti E vi lascio anche la categoria Proprio dei prodotti dell'estate Dove trovate anche altri prodotti che adesso non vi faccio vedere Ma che comunque io amo tantissimo Sono tutti in quella categoria Poiché ci sono i saldi e poiché sono le ultime spedizioni Prima delle vacanze Approfittate perché lo sapete Il sito rimarrà sempre aperto Quindi voi potrete comprare sempre Però a un certo punto Le spedizioni non verranno più fatte Verranno riprese a fine mese Quindi voi continuate sempre a comprare Perché noi comunque spediremo poi in ordine di arrivo Quindi se ordinate prima Spediamo poi il primo al vostro pacco A fine mese Comunque se ordinate adesso Entro il 14 Noi spediamo Entro il 14 alle ore 2 Noi spediamo in giornata Quindi vi arriva dopo 1-2 giorni Il pacco Quindi approfittate che ci sono anche i saldi Fate i grandi rifornimenti Oltretutto se superate i 99 euro di spesa Lo sapete C'è l'omaggio della maschera viso Basta che scrivete nelle note Di omaggio a maschera viso E vi regalo la maschera viso idratante Purificante peel off Che ottima Anche il link del rossetto Che bellissimo E già so che me lo chiederete Ve lo metto nel box info Mentre invece per quanto riguarda i vestiti Vi ho mostrato tutto l'outfit Nell'ultimo vlog In cui vi ho mostrato anche i miei acquisti Ultima cosa prima di iniziare Abbiamo rifornito la collana Summer Vibes E penso che sia l'unica volta In cui sono disponibili Contemporaneamente il bracciale La collana e la caviera Quindi li potete prendere tutti e tre E approfittate Perché non succederà mai più Soprattutto la collana L'abbiamo rifornita Sapete che va ruba in pochissimo tempo Quindi approfittate Intanto lo stavate aspettando Quindi ve lo sto dicendo Ragazzi innanzitutto Vi volevo parlare di due prodotti Che davvero davvero Mi hanno migliorato la pelle Sapete che il sole un po' Non fa tanto bene alla pelle Insomma comunque Bisogna curare la pelle Anche dall'interno Oltre che con dei prodotti esterni Quindi con l'alimentazione Bere tanta acqua eccetera Però molto spesso Noi che possiamo mangiare Con il talate di verdure Per avere un principio attivo Una vitamina Bisognerebbe mangiare Chili, chili, chili di verdure Quindi nascono le Skin Beauty Che sono delle capsule di Natural Mojo Che davvero vi straconsiglio Per migliorare tantissimo la pelle Soprattutto adesso in estate Che comunque andiamo in giro Con poco tucco Senza trucco La pelle deve essere bella E anche per combattere i segni del sole Io sto prendendo le Skin Beauty Assieme alle Pure Cups Anche queste qua Sono ricche di ingredienti Tipo l'aloe vera La spirulina Che vanno a veramente Migliorare la pelle E anche le Skin Beauty Sono a base di lievito Sono a base di lievito Vitamine Tanti estratti che fanno bene La pelle e i capelli Io vi consiglio L'accoppiata di queste due Anche perché sul sito Natural Mojo È scontato questo set Si metto il link In box info O se lo sconto che già c'è Potete usufruire del mio codice sconto Che è Carlita Dolce 20 Con questo sconto Avete il 20% di sconto Su queste E su qualsiasi prodotto Presente su Natural Mojo Quindi approfittate Quanto riguarda i prodotti al mare I miei solari preferiti Lo sapete Ve li ho straconsigliati E li ho inseriti sul mio shop Perché davvero Secondo me sono i migliori Sono questi qua Di Alchemilla Sono buonissimi Perché profumano di cocco Quindi hanno un buonissimo profumo Non vi lasciano l'ascia bianca Vi proteggono sia dalle rughe Che dalle macchie solari E in più Sono molto molto confortevoli Non occludono la pelle Non vi fanno venire le impurità Quindi li potete usare Sia sul corpo che sul viso E ci sono in tre diverse gradazioni 50, 30 e 15 Eccole qua Io le uso tutte e tre Inizialmente metto la 50 Sul viso e corpo Dopo qualche esposizione Poi mantengo la 50 sul viso E metto la 30 sul corpo Poi quando sono proprio molto abbronzata Proprio alla fine Utilizzo la 15 sul corpo Mentre sul viso Mantengo sempre la protezione 50 o 30 Perché sapete che Il viso bisogna proteggerlo tantissimo Dalle rughe e dalle macchie Perché veramente La prima prevenzione Per combattere le macchie È per la protezione sorale Questi ve li straconsiglio Naturali e bio Vi metto il link Ne box info Altra cosa che io utilizzo Tantissimo al mare È questo qua Questo è un olio solare Protettivo per capelli Protezione 10 Io lo adoro Anche questo qua Ha una profumazione bellissima Di cocco mono È fantastico Un po' pieno di sabbia Perché appunto Me lo porto dietro Io lo spruzzo sui capelli Meglio se li sciacquate Dopo il mare Li sciacquate con acqua dolce E poi lo spruzzate sui capelli Protegge dal sole Dal sale Nel mare Dal cloro Della piscina È favoloso Molto nutriente Quando voi andate a fare lo shampoo Avete i capelli Morbidissimi Perché protegge Appunto Le mantiene morbidi Nutrite Poi ha anche un buon profumo Anche spiaggia Vi fa un bello styling Sui capelli Quindi Che li potete tenere Insomma in spiaggia È bello l'effetto Quando lo mettete Si asciugano È buonissimo Di questa formulazione C'è anche altre gradazioni Vi straconsiglio anche La protezione solare Così in olio spray 30 e 50 Sono buonissime E io mi trovo da dio Soprattutto perché Idratano moltissimo la pelle La rendono molto luminosa E stimolano l'abbronzatura Ragazze sono ottime Fanno un bellissimo effetto In spiaggia Veramente Veramente Top Sempre mi proteggono Comunque dalle rughe E dalle macchie Adesso un'altra cosa Che io amo tantissimo E vi straconsiglio Me la porto sempre Questa qua Questa è la lozione Abbronzante Rinfrescante Favolosa Questa Se mi seguite Nel store Instagram Vedete che Quando vado al mare La domenica Ve la spruzzo Anche Dario Se la spruzza La amiamo È un'acqua spray Che è un effetto Rinfrescante Non se stai tipo Prendendo il sole E ti senti accaldata La spruzzi Intensifica L'abbronzatura E ti rinfresca Un casino È proprio bella Spruzzarsi A me Mi dà dipendenza Perché amo anche Il profumo Ed è bellissima Ragazzi Questa non può mancare Poi Quando torno a casa Ovviamente Mi lavo Con il bagno doccia Uso questo qua Rinfrescante Infatti L'ho quasi finito È buonissimo Perché questo È rinfrescante Tonificante Quando ti lavi Ti ha una sensazione Di freschezza Proprio lo senti Un fresco addosso È molto molto piacevole Dopo il mare È un buonissimo profumo È proprio ricco di menta Estratti naturali Molto rinfrescanti E tonificanti Io lo amo Ragazzi Poi un bel bottiglione Mi dura un sacco Infatti appena me ne finisce Ne prendo un altro E in più Non la va via L'abbronzatura Quindi vi aiuta A prolungarla Un'altra cosa Che vi aiuta A prolungare L'abbronzatura È il doposole Mettete sempre sempre Il doposole Io utilizzo Questo qua Mi piace tantissimo Questo è un doposole Spray È molto molto leggero Molto carino Ragazzi Vi faccio vedere Come vedete È proprio tipo Un'acqua spray Quando lo metti Però ti idrata un sacco Ha un profumo pazzesco Bellissimo E ti idrata un sacco La pelle Cioè vi giuro Io lo amo Ed è proprio In quei casi In cui ho qualcosa di fresco Non ci avrà a spalmarti nulla È buonissimo Anche questo Vi metto il link Nei box info E lo trovate Scontato Su Caritas Shop Vedete A vedere Approfittate Perché i saldi Durano uno Massimo due giorni Adesso poi c'è Il doposole Questo qua Anche lo amo tantissimo Questo è un doposole Che già adorandolo Così si sente profumo È Cocomo noi Pazzesco Questo è una crema corpo Doposole Molto molto leggero Cioè praticamente Subito si asciuga Perché io odio Le cose mutuose Che non si asciugano Questo è molto lenitivo Quindi anche se Vi scottate Vi brucia È molto fresco T'idrata Lo metto su tutto il corpo Rinfrescante Lenitivo Tonificante È molto bello È profuma di cocco Ragazzi Ve lo straconsiglio Questo è il latte Doposole Con cocco È monoi Fantastico Adoro questa profumazione Cioè io Lo uso Anche normalmente Sulle mani Crema corpo Perché è fantastico Un'altra crema Che amo È questa qua Questa è una crema corpo Al cocco Multiuso Questa l'amo tantissimo Ragazzi Non so se avete capito Che a me piace il cocco Leggermente Comunque Questa è una crema multiuso Che io sto a metà baratto È buonissima Sembra tipo Uno yogurt Dalla consistenza Vi giuro È buona 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 Buonissima Anche questa qua È molto molto leggera Proprio una crema Leggera Fresca È una crema multiuso Perché nel caso Ad esempio In cui andate in vacanza Oppure tornate dal mare La potete usare anche sul viso Sul corpo Sulle mani Si asciuga in fretta Profuma di cocco E questa è la mia crema Dell'estate Vi giuro L'amo tantissimo È pazzesca Adoro Un altro bagno schiuma Quando vi ho fatto vedere Quello là Un altro bagno schiuma Che uso Assieme a quello rinfrescante È questo Questo è un bagno schiuma Che potete usare Sul viso E corpo Che non la va via L'abbronzatura Anzi Intensifica l'abbronzatura E la fa durare Più a lungo E tutta questa linea Io la adoro Di questa marca Che trovate sempre Su Caritashop Profuma di mango Vi giuro ragazzi È pazzesco È colorato Quando lo usi E ti profuma La pelle di mango È veramente Veramente Ti lascia la pelle Idratata Nutrita Fresca E prolunga L'abbronzatura Proprio è un fattore Di carotene dentro Che prolunga L'abbronzatura Viso E corpo E poi io che faccio Perché io non amo Tantissimo Stare al sole Comunque il sole Fa male Quando torno a casa Mi faccio una passata Anche di auto Abbronzante Ormai lo conoscete Tutti E' autoabbronzante Caritashop Questo è favoloso Non macchia Non puzza Fa un colorito Molto molto naturale Quindi non arancione Molto delicato E' veramente favoloso Lo trovate Nelle colorazioni Light Medium E dark Vanno bene Per tutti i tipi di pelle Perché è molto modulabile Lo applicate una volta E vi da un leggero colorito Se lo volete più scuro Lo applicate più volte Io mi trovo bene Con la collaborazione Medium Però a volte Tipo finisce Mi prendo la light Va bene Comunque Solo lo applico Una volta in più Ecco Questa è la cosa Ed è pazzesco Se voi lo mettete Quando tornate a casa Tipo a volte Avete le bretelline Il segno delle bretelline Oppure non è venuto uniforme Oppure volete intensificarla E fate una passata Di questo Che è in mousse Ed è naturalissimo Lo potete mettere Sia sul corpo Che sul viso Veramente avete Un'abbronzatura bellissima E anche quando sta iniziando A togliersi L'abbronzatura Tipo si fa macchie Usate sempre Il lato abbronzato Io in questo modo Con questi prodotti Ho veramente Un'abbronzatura Che mi dura tantissimo Ed è sempre bella Sempre Ho un bel colorito Insomma Non spello Non faccio macchie Sopra queste cose qua Un altro prodotto Per l'estate Che per me Non può mancare È questo qua Questo è l'olio di cocco Io ho diversi oli di cocco Sul mio shop online Che davvero vi straconsiglio tutti Se lo volete solito Sapete che l'olio di cocco Oltre a una certa temperatura Diventa liquido Se vi piace Solito tipo burro Basta che lo tenete in frigo Questo è buonissimo Profuma di cocco Ottimo Lo potete usare anche sui capelli Come impacco Pre shampoo E anche me lo porto A volte in spiaggia E tipo Lo metto un po' Sui capelli Per proteggerli Dal sole E fare un impacco Poi li leggo Quando torno a casa Li lavo E veramente I capelli Sono stupendi Luminosi Bellissimi E morbidi È favoloso L'olio di cocco Poi potete usarlo Come olio corpo Quello che volete Considerate che profuma Di cocco Quindi è pazzesco Addirittura c'è chi lo usa Per sbiancare i denti Tipo come dentifricio Wow 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 Questi oli di cocco Che io amo Sono questi qua Olio di cocco E olio di monoe Questi anche sono buonissimi Olio di cocco puro Buonissimo Spremuto a freddo Anche questo Proteggia i capelli Dal sale Dal sole Dal mare Potete fare gli impacco E fare quello che volete Questo di monoe Invece è un profumo Pazzesco di monoe Proprio di gardenia Anche questo È ottimo Per tutte le proprietà Che ha l'olio di cocco In più ha questa profumazione Che è molto buona Quindi potete usarlo Anche come olio da passaggio È veramente molto molto buono Corpo e capelli Te li piacciono gli oli? Ragazzi ve li consiglio A tutti due Io personalmente Li amo molto D'estate Perché trovo Che usare gli oli Sul corpo Intensifica L'abbronzatura Cioè rende la pelle Più luminosa Più idratata E quindi migliora Di più l'abbronzatura In più Contrastano la formazione Di peli incarniti E la pelle È proprio più bella Più luminosa È proprio più bella Quando è illuminata E uso questi oli Che sono oli secchi Quindi che non ungono La pelle Questo è il mandorlo oil Cioè praticamente È un olio di mandorle Al cocco Questo è profumato Al cocco Ed è buonissimo Ragazzi Lo uso come olio corpo Come olio capelli Stessa cosa questo Questo è l'olio meraviglioso Al cacao Questo qua è buonissimo Si chiama wonder oil Ed è un olio Ed è un olio Che praticamente sa Di cocco Cacao È anche una nota Di vaniglia È buonissimo C'ha il Il buchino Quindi esce un po' alla volta E il contenitore È di plastica Quindi ve lo potete portare Dietro Non si rompe Ve lo potete portare In aereo Dove volete voi Ed è buonissimo Ragazzi Questo ve lo straconsiglio Come impacco Pre shampoo Sui capelli Come olio corpo Perché l'olio di cacao Ha proprietà Tonificanti Antismagliature Sul corpo Quindi è un olio Multiuso E la profumazione È buonissima Top ragazzi Anche di questo Vi metto tutti i link Nei box info Così li trovate subito Su carita shop Ragazzi Poi non può mancare Ovviamente il gel Dal vera Il gel dal vera È un massevo Dell'estate Perché serve Se vi scottate Vi potete fare Anche con questo Degli impacchi sui capelli Lo potete mescolare All'olio Potete usarlo Sul corpo Appunto come gel Infrescante Come gel Styling Per capelli Per qualsiasi cosa Anche post puntura Di insetto È molto limitivo Questo è ottimo Questo qua Perché ha estratti Di calendula Camomilla Lavanda Quindi è molto limitivo E rinfrescante Ve lo straconsiglio Io lo amo Grazie Poi un'altra cosa Che io adoro Troppo 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 È questo Questo è l'olio Acceleratore Di abbronzatura Olio Sbrillucicoso Praticamente Con particelle D'oro È favoloso Questo si agita E quando lo mettete Addosso Praticamente Vi lascia Una luminosità Incredibile Sia lo potete usare Al mare È tipo In spiaggia Praticamente Perché intensifica L'abbronzatura E vi fa Più belle No? Vi illumina la pelle Sia di tipo Per esempio Alla sera Io ad esempio Adesso lo metto Su braccia e gambe Quando metto Un vestito Tipo sulle spalle Sul decoltier Considerate che È un olio secco Quindi Vedete Poi Basta che voi Lo massaggiate Subito Si asciuga Vi lascia La peridratata Morbidissima Intensifica All'abbronzatura E va a far durare Più a lungo E vi fa brillare La pelle Quindi è stupendo E poi Anche il profumo Io lo adoro Adesso vi faccio vedere La differenza Fra le due braccia Vedete questa Come sembra Più abbronzata E luminosa E comunque asciutto Non rimane L'olio sulla pelle Ma rimane Un brillantio Che si vede Ancora di più Con le luci Tipo Si vede Che siete tutte Glow È bellissimo L'effetto Io lo adoro Oltre lo metto Anche sulle punte Dei capelli Sulle gambe Sulla abbronzatura È favoloso Ragazze E poi Un'altra cosa È questo qua Questo è un integratore Che anche ho preso Si chiama Screen Protection A base di beta carotene E durante tutte le vacanze E anche dopo Perché vi fa mantenere L'abbronzatura E vi protegge Anche da danni del sole Proprio il beta carotene Protegge da danni solari Intensifica l'abbronzatura E la fa durare più a lungo Anche di questo Vi metto il link Nel box In sotto Ragazze Poi infine Vi volevo parlare Di questi prodotti Che anche sono pazzeschi Burro corpo Scrub corpo E gel doccia Che prolungano L'abbronzatura Sono pazzeschi Veramente ragazze Allora C'è questo che è lo scrub corpo Poi si chiama My Precious È uno scrub in wash Quindi uno scrub detergente Ad esempio Questo vi consiglio di farlo Tra un'esposizione solare E un'altra Oppure prima di andarmi Disporsi al sole Perché Oppure quando ad esempio Avete quelle pellicine Le pelli Le macchie solari Vi state spellando È favoloso Uniforma L'abbronzatura Ve la fa durare più a lungo E in più Elimine per incarniti Vi viene della pelle Molto tonica E omogenea È favoloso Ragazze Profumo di mango E questo è il burro corpo Questo è il burro corpo Drop on sunshine Favoloso ragazze Questo è un burro corpo Che potete usare Sia come dopo sole Perché è molto idratante E illuminante Sia Ha un leggero potere A tuo abbronzante Quindi intensifica La vostra abbronzatura E ha anche potere Tonificante sulla pelle Ragazze È favoloso Profumo di mango Adoro Guardate che bello Cioè È arancionino Come colore Proprio perché Ha un leggero potere A tuo abbronzante Vi giuro che È pazzisco Provatelo Provatelo Perché è top E questo alla fine È la crema Il detergente Ve l'ho fatto vedere prima Eccolo qua E questa è infine La crema Che è ottima ragazze Questa è la crema viso Appunto Che è un po' colorata Anche questa Ha un leggero potere Autoabbronzante Quindi io questa La uso sempre Quando vado al mare Quando torno dal mare Come crema viso Perché appunto Mi uniforma L'abbronzatura Me la fa durare Più a lungo E in più Ha questo leggero Potere autoabbronzante Che mi illumina Tanto la pelle E mi intensifica L'abbronzatura È buonissima E anche questa Ha un profumo Buonissimo Di mango Ragazze Io vi lascio Tutti i link Dei prodotti Nel box Info sotto Vi aspetto Su Caritas Shop Per approfittare Di questi ultimi salti Mi raccomando Vi ho spiegato Tutta la situazione Noi comunque Lasciremo sempre Il sito aperto Quindi potete Sempre acquistare E vi spediremo Fino all'ultimo Vi spediremo I vostri pacchi Per farvi arrivare Prima delle vacanze Anche dopo Perché poi Fate i rifornimenti Perché poi Man mano Le cose sul sito Stanno finendo Finiscono E poi comunque Così vi trovate le cose Già per fine mese Insomma Per quando tornate Dalle vacanze Vi mando Un bacio grande Ciao 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 Un bacio grande E lasciatemi un pollice in su Al video Se vi è piaciuto Ciao ciao A tu manera Es complicado En una bici Que te lleve a todos lados Un vallenato Desesperado Una cartica Que yo guardo Donde te escribí Que te sueño Y que te quiero tanto Que hace rato Está mi corazón Me entiendo por ti Me entiendo por ti